Buongiorno a tutti, benvenuti al nuovo TG di Upel Cultura. Il nuovo TG si intitola Luoghi in Comune. Nel luglio 2020 Upel si è dotato di una sezione interamente dedicata alla cultura e il fulcro del nostro progetto è proprio Luoghi in Comune, un progetto a cui stiamo lavorando da diverso tempo con l'obiettivo di censire tutti i beni presenti nei nostri territori. Quanto conosci il tuo comune? All'interno del portale upel.va.it Upel Cultura trovate per ogni comune associato una pagina dedicata a tutti i beni che sono presenti all'interno dei nostri comuni e quindi di ogni comune. Al momento abbiamo terminato il censimento di tutti i beni presenti nei comuni della provincia di Varese e quasi tutti quelli presenti all'interno della provincia di Como e abbiamo anche completato i beni UNESCO all'interno della Lombardia. Ogni comune ha in questo modo una vetrina, una sezione dedicata che vuole essere anche interattiva e quindi che vuole dotarsi di ulteriori materiali, elementi, immagini, storie da raccontare che provengano proprio dai singoli cittadini e da chiunque abbia interesse a condividere quindi informazioni legate proprio al loro territorio. Un modo per sviluppare anche non solo il nostro patrimonio culturale a volte sconosciuto e sottovalutato ma anche per creare dei collegamenti che possano poi creare dei percorsi a livello turistico in un'ottica di sviluppo di un turismo che vuole essere sempre più lento nel senso di qualità e esperienza e anche di prossimità al fine proprio di raggiungere dei beni facilmente raggiungibili anche con la macchina o con l'autobus vicino alle nostre città di provenienza. Vi ringrazio e vi invito a visitare la nostra sezione.